Beauty 2000 è un centro estetico esclusivo con esperienza ventennale situato a Monfalcone e propone all'uomo e alla donna una vasta gamma di trattamenti all'avanguardia. Non solo manicure e pedicure, ma anche massaggi rilassanti e curativi, depilazione a luce pulsata con tecnologia all'avanguardia e prodotti prestigiosi di aziende leader nel settore del benessere con soluzioni per ogni esigenza. Percorsi personalizzati viso e corpo e pause relax per ritrovare bellezza e benessere in una vera oasi in città, vicino a casa ed ufficio, dove abbandonare il ritmo frenetico del quotidiano per concedersi una pausa rigenerante. Il centro estetico è inoltre un esclusivo laboratorio specializzato in nail art e tattoo correttivo per le esigenze più specifiche. Beauty 2000. Estetica e relax nel cuore della città.